E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Guns of Boom Come vedete ho comprato l'attacca briga Ficcio la bomba, quello che volevo tantissimo E' un nuovo bippo, un disperso Oppure ragazzi, me lo continuano a migliorare Non lo so perché devo sciogliere tantissimo di livello Però intanto incominciamo Dobbiamo fare culetta e nastrisciente Yes Comunque ho fatto un po' di partite come vi ho detto nello scorso video Sono andato avanti solo per prendere un po' di soldi E ho fatto un obiettivo che mi era dei 5.000 quindi bene Poi c'è una nuova modalità che non mi piace Sinceramente Ecco ragazzi ormai tutti usano il dispersore Mitraglietta Lui col dispersore è anche lui Abbiamo 107 cure Oddio Ragazzi comunque migliorerò prima di migliorare l'antacca Perché ne servirebbe Prendo danni gratis Comunque cosa ci penso Potrei migliorare anche questo Perché il dispersore Però ragazzi Molti episodi Molti Ma dico molti Riuscire a prendere il famoso vampiro? No Ma mi è venuto vuoto di memoria Non mi ricordo come si chiama Il dispersore Vabbè dai ci sta Non piano prenderò anche il Il petrano e la mitraglia Che poi la pesano Vedrai tu Vedrai anche il cecchino Prenderai tipo il maltrattatore Comunque spero che si senta l'audio Spero con tutto il cuore Che si senta l'audio Scusate O forse un po' alto per voi Provo ad abbassare Qualche mi ha scritto Mi chiede anche Dove è andato RobberyBob Quello che ho portato Sono un video In pratica Non potevo più registrare Comunque il video E vabbè sono andato avanti Da solo E sono alla valanga Volevo fare un video A riguardo Su RobberyBob Lo farò Piglialo Bravo Ma comunque anche quando Non registro Ragazzi Parlo lo stesso Lo sento Piglialo 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 Riggio Vจ V cannot Unlikely Di Vest va bene va bene va bene va bene va bene va bene è stati un prodotto il pinguino transalpino il pinguino transalpino il pinguino transalpino non ci sta massacrando ma sono velocemente ma non ci sta massacrando ma sono velocemente ma non ci sta massacrando ma sono velocemente ma è upì questa arma è upissimo ma si carica straveloce l'ho pure ucciso ma dai che mi prendo i punti dai 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 prendo i soldi sai ok buono fatto dai ci siamo portati a casa la prima partita dai speriamo di portarcelo a casa anche la seconda ole si 19 dai ci sta buono caramelo caramelo ah come ho cambiato anche l'esterno che mica ooo no si ce l'ha pronto quindi siiii non avrò mai ma cosa faccio di nuovo ma cosa faccio di nuovo ragazzi che magari dopo se ci arriviamo i 4 mila dopo azzarderei qui farà ancora farà qualche partita anche offline quando non registro per guadagnare sempre più soldi a comunque ragazzi condividete il video è ovviamente il video è il video è è morto il video è il video è il video è allora aspetta ucciso oddio oh ragazzi un attimo ancora ma scusate ragazzi ora non interromperò più la registrazione basta ragazzi oh mio dio pochini potere degli ucchini a me oh mi ha dato l'assistenza sono sto però ragazzi con la ghigliottina è un hub però dobbiamo fare una mossa stanno chiamando una mossa bim bam bamb bamb no vabbè ma allora questi qua sono un sciopone sciopone è una b bene preso 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 oh oh serve sangue freddo ah dolore pain oh dai 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 aspetta ho apro formato per di perdere ucchini nooo vabbè Adesso la si è ingiucata Almeno basta che mi danno un po' di saldini Comunque ragazzi Per questo video è tutto Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Iscrivetevi Non attivate la campanellina perché vabbè fa niente Quindi dividete il video Passate sul canale del mio amico Byte06 e Gio2008 Per questo video è tutto Ciao Gini